Ha potuto toccare con mano la situazione del carcere di Teramo, come si risolve questa problematica che ormai è diventata cronica? Quella della carenza di organico in uno col sovraffollamento carcerario. Sulla carenza di organico, nella prima finanziaria del governo Meloni, pure in un contesto di sangue e guerra finanziaria e con una guerra vera alle porte dell'Europa che ci ha imposto di dirottare buona parte delle risorse per consentire a famiglie e imprese di galleggiare, abbiamo provveduto alla mille extra assunzioni di agenti della polizia penitenziaria che impatteranno anche sulle piante organiche. Nel frattempo 1479 agenti del 181 corso atterreranno negli istituti penitenziari a brevissimo perché è terminato il corso, abbiamo già fatto un altro corso per 1758 allievi, ho bandito un extra corso per 1500 allievi, faremo lo scorrimento delle graduatorie per 250 allievi e quindi la risposta sulla carenza di organico, ovviamente poi con la necessità di fare i corsi di formazione, però si deve pur sempre cominciare, è quella di 1500 più 1758 più 1479 che atterrano più le mille extra assunzioni, mi pare una buona risposta in quattro mesi. Quindi Teramo avrà nuovi agenti di polizia penitenziaria? Certamente, quelli del 181 corso atterreranno anche a Teramo, 1479, così come 1758, così come 1500 di estracorso, anche perché Teramo soffre una particolare carenza di organico in uno con il sovraffollamento determinato anche da un'incidenza alta della popolazione straniera per la quale prevediamo la possibilità che scontino la pena nei paesi di provenienza. Problema sicurezza, il carcere di Castrogno ha anche un reparto dove ci sono detenuti con problemi psichiatrici e si verificano spesso anche degli incidenti? Stiamo lavorando con tutte le regioni d'Italia e quindi anche con la regione Abruzzo sulle REMS. Gli ospedali psichiatrici giudiziari erano un buco nero della coscienza di noi italiani ed era giusto chiuderli, non era giusto chiuderli per sbattere quei poveri psichiatrici all'interno degli istituti penitenziari, flagellando la vita agli psichiatrici, flagellando agli altri detenuti, flagellandola agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria. Non ci sfugge che molto spesso laddove ci sono circuiti detentivi di alta sicurezza o legati al 41 bis, lo psichiatrico a volte diventa anche la miccia in mano alla criminalità organizzata. A breve faremo una conferenza Stato-Regioni, peraltro mi pare già annunciata dal Ministro Schillacci della Sanità con le regioni sul tema delle REMS perché è un tema che noi dobbiamo affrontare e risolvere, lo dobbiamo gli psichiatrici, lo dobbiamo per la sicurezza degli istituti, e lo dobbiamo per quel che riguarda l'entrata in marzo in particolar modo agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria. Sì, in un mio precedente incontro qui al carcere di Castronio con le sigle sindacali di tutto l'Abruzzo, un problema generale non soltanto del carcere di Teramo, mi era stata sollecitata una decisione riguardo alla riapertura del repartino, il cosiddetto repartino del carcere di Pescara perché oggi con la carenza di personale il fatto di mandare in diversi ospedali della regione i detenuti che hanno bisogno di ricovero moltiplica i turni, il personale che poi deve uscire per andare a piantonare dentro gli ospedali, fare i trasferimenti e questo sta pesando molto sull'economia generale delle scarse risorse umane disponibili. Per questo mi è stata fatta questa richiesta, io ho investito del problema all'assessore alla salute Veri, il direttore generale Ciamponi insieme agli altri direttori generali perché questa questione deve essere risolta, è chiaro che l'ospedale di Pescara può farsi carico dell'intera, diciamo, del problema regionale se c'è la collaborazione delle altre tre ASL, non è facilissimo, ci sono come sempre situazioni complicate dal punto di vista amministrativo, burocratico e organizzativo da affrontare e da risolvere però abbiamo attivato questa procedura e quindi io penso che nel prossimo futuro, insomma da qui a non molto tempo, potremo riaprire questo repartino e aiutare la Polizia Penitenziaria a ottimizzare le risorse.